Gira sa mania, mania, il purtumula è salà, fate d'erbe da papà, c'hanno un po', se ne manse uscìa. La signora vorrebbe salire? Sì, è ancora un pezzo. Sali su se vuoi, che tanto sai, l'andiescore. La signora vorrebbe salire, ma lui è impossibilitato ad aprire. Zia Mariucciano, ureggia da bocca, resurtia. Arendon farmacia, catena, puma da pelle lasciatica. Chi l'ha di me, che la caloderma in fondo fa bene. Io non so se fa bene, ma così non resisto dal male. No, gliene a mia mare, a travaia fa un turno da tre. Spiega che la caloderma in fondo fa bene per una sciatica, ma non è cosa comprovata. Non mi puoi sneccare. Fa male. E riesne a camminare. Precume, sendess una cutla. Nama, punza sciatica. Pettine amni, du manche je, come amare. Chi l'ha almeno sa, l'andai a buttare tutta tua roba. La signora vorrebbe salire, ma lui è impossibilitato ad aprire. E la esorta a ritornare il giorno appresso. E' vero. Ciao a poi. Dai, guarda roba si, guarda pure a ti, se te lo trovi. Vai a un po' e fete due albida, a me pare se te lo trovi. Ne due pole, che te panno i li li da su, ta se scare. Ciao a un po' si è me pare. Salere nel li, forse alle dre and lord. Oh ma gara u le mort. E' zaccoglie pi niente chi va. Dovrebbe essersi anche il padre da qualche parte. Che eventualmente poteva aprire la signora. Ma è irraggiungibile pare. Che il ragazzo stia perdendo la pazienza. Non nu pu spi. Sa ciò spa. A re incubere lì. E gni, e gni, gni, gni. Gni, gni, gni. Schermo rivolto a persona poco gradita. E gni, e gni, gni, gni. Una roba supportabile. Una roba supportabile. Ma lo stabile, e anche il portico, gli appartiene. E mi conviene di dire sempre sì, con devozione. pare che la signora sia la proprietaria dello stabile a Trava e a Fortuno da tre se ci fosse stata sua madre nulla sarebbe accaduto